Il pericolo delle false leggende e della persecuzione La menzogna ha troppo a lungo soggiogato i popoli. È tempo che si conosca quanto poche siano le verità che si possono intravedere attraverso quelle nubi di favole che coprono la storia romana dei tempi di Tacito e Svetonio e che hanno quasi sempre avvolto gli annali delle altre nazioni antiche. Come si può credere, ad esempio, che i romani, popolo grave e severo da cui abbiamo tratto le nostre leggi, abbiano condannato delle vergini cristiane, delle ragazze nobili, alla prostituzione? Significa conoscere molto male l'austera dignità dei nostri legislatori che punivano così severamente le debolezze delle vestali. Gli atti sinceri di Ruinard raccontano queste turpitudini. Ma si deve credere agli atti di Ruinard come agli atti degli apostoli? Questi atti sinceri raccontano, seguendo Bollin, come vi fossero nella città di Ancira sette vergini cristiane di circa 70 anni ciascuna che il governatore Teodecto condannò a essere lasciate in balia dei giovani della città, ma che essendo queste vergini state rispettate, a ragion veduta, le obbligò a servire tutte nude ai misteri di Diana, ai quali peraltro si assisteva solo velati. San Teodoto, che in verità era un taverniere, ma non per questo meno zelante, pregò Dio ardentemente di voler far morire quelle sante ragazze, per timore che non dovessero soccombere alla tentazione. Dio lo esaudì. Il governatore le fece gettare in un lago con una pietra al collo. Esse apparvero subito a Teodoto, pregandolo di non lasciare che i loro corpi fossero mangiati dai pesci. Furono queste le loro precise parole. Il santo taverniere e i suoi compagni si recarono di notte sulla riva del lago sorvegliato dai soldati. Una fiaccola celeste si muoveva sempre davanti a loro, e quando furono sul luogo dove erano le guardie, un cavaliere celeste armato di tutto punto inseguì le guardie con la lancia in pugno. San Teodoto estrasse dal lago i corpi delle vergini. Fu condotto davanti al governatore e il cavaliere celeste non impedì che gli venisse tagliata la testa. Non smettiamo di ripetere che noi veneriamo i veri martiri, ma è difficile credere a questa storia di Bollin e di Ruinard. Bisogna riportare qui il racconto del giovane San Romano? Lo gettarono nel fuoco, dice Eusebio, e alcuni ebrei che erano presenti ingiuliarono Gesù Cristo che lasciava bruciare i suoi confessori, mentre Dio aveva tratto Sidrac, Misac e Abdenago dalla fornace ardente. Appena gli ebrei ebbero parlato, San Romano uscì trionfante dal rogo. L'imperatore ordinò che gli si perdonasse e disse al giudice che egli non voleva avere nulla da contendere con Dio. Strane parole per Diocleziano. Il giudice, malgrado l'indulgenza dell'imperatore, ordinò che si tagliasse la lingua a San Romano e, benché avesse dei carnefici, fece fare questa operazione da un medico. Il giovane romano, balbuziente dalla nascita, parlò con scioltezza non appena ebbe la lingua tagliata. Il medico si prese un rimprovero e, per far vedere che l'operazione era stata eseguita secondo le regole dell'arte, prese un passante e gli tagliò giusto tanta lingua quanta ne aveva tagliata a San Romano, per la qualcosa il passante morì immediatamente. Perché, aggiunge dottamente l'autore, l'anatomia ci insegna che un uomo senza lingua non può vivere. In verità, se Eusebio ha scritto simili scempiaggini, se non sono state aggiunte i suoi scritti, che affidamento si può prestare alla sua storia? Ci si racconta il martirio di Santa Felicita e dei suoi sette figli, messi a morte, si dice, dal saggio Epio Antonino, senza indicare la fonte della narrazione. È molto verosimile che qualche autore, più devoto che veritiero, abbia voluto imitare la storia dei Maccabei. Il racconto inizia così. Santa Felicita era romana e viveva sotto il regno di Antonino. Risulta chiaro da queste parole che l'autore non era contemporaneo di Santa Felicita. Egli dice che il pretore li giudicò nel suo tribunale del campo di Marte, ma il prefetto di Roma aveva il suo tribunale nel Campidoglio e non nel campo di Marte, che dopo aver servito per tenervi comizi, serviva allora per le riviste dei soldati, per le corse, per i giochi militari. Questo solo fatto dimostra che si tratta di congetture. Vi si dice ancora che dopo il giudizio l'imperatore affidò a differenti giudici l'incarico di far eseguire la sentenza, il che è assolutamente contrario a tutte le procedure di quei tempi e a quelle di tutti i tempi. Vi è poi un santo Ippolito che si dice sia stato trascinato dai cavalli, come Ippolito, figlio di Teseo. Questo supplizio non fu mai conosciuto dagli antichi romani e la sola somiglianza del nome ha fatto inventare questa favola. Osservate ancora che nei racconti dei martiri, scritti esclusivamente dai cristiani stessi, si vede quasi sempre una folla di cristiani recarsi liberamente nella prigione del condannato, seguirlo nel luogo del supplizio, raccoglierne il sangue, seppellirne il corpo, fare dei miracoli con le reliquie. Se fosse stata perseguitata la sola religione, non si sarebbero immolati quei cristiani che assistevano i loro fratelli condannati e che venivano accusati di operare incantesimi con i resti dei corpi martirizzati? Non li si sarebbero trattati come noi abbiamo trattato i valdesi, gli albigesi, gli ussiti, le varie sette protestanti? Noi li abbiamo sgozzati, bruciati in massa, senza distinzione né d'età né di sesso. Vi è, nei racconti accertati delle antiche persecuzioni, un solo tratto che assomiglia alla notte di San Bartolomeo ai massacri d'Irlanda? Ve n'è uno solo che assomiglia alla festa annuale che ancora si celebra a Tolosa, festa crudele, festa da abolire per sempre, nella quale un popolo intero ringrazia Dio in processione e si rallegra di avere sgozzato, duecento anni fa, quattromila concittadini? Lo dico con orrore, ma è cosa vera. Siamo noi, cristiani, noi che siamo stati persecutori, carnefici, assassini. E di chi? Dei nostri fratelli. Siamo noi che abbiamo distrutto cento città con in mano il crocifisso o la Bibbia e che non abbiamo smesso di spargere sangue e di accendere roghi, dal regno di Costantino fino ai furori dei cannibali che abitavano le Sevenne. Furori che grazie al cielo oggi non sussistono più. Mandiamo ancora oggi talvolta la forca dei poveretti del Poitou, del viva re di Valenza, di Montauban. Abbiamo impiccato dal 1745 otto persone di quelle chiamate predicanti o ministri del Vangelo, colpevoli soltanto di aver pregato Dio per il re in dialetto e di aver dato un sorso di vino e un pezzo di pane lievitato da alcuni contadini imbecilli. Non si sa nulla di ciò a Parigi, dove il piacere è la sola cosa importante, dove si ignora tutto quanto avviene in provincia e all'estero. Questi processi si fanno in un'ora e più in fretta di quanto non si condanni un disertore. Se il re ne fosse a conoscenza, farebbe grazia. Non si trattano in questo modo i preti cattolici in nessun paese protestante. Vi sono più di cento preti cattolici in Inghilterra e in Irlanda. Sono conosciuti e li si è lasciati vivere tranquillamente durante l'ultima guerra. È la guerra dei sette anni, 1756-1763. Saremo sempre gli ultimi ad abbracciare le sane opinioni delle altre nazioni? Esse si sono corrette. Quando ci correggeremo noi? Ci sono voluti 60 anni per farci accettare ciò che Newton aveva dimostrato. Iniziamo soltanto ora a salvare la vita dei nostri bambini con il vaccino. Non mettiamo in pratica che da pochissimo tempo i veri principi dell'agricoltura. Quando inizieremo a mettere in pratica i veri principi dell'umanità? E con quale sfacciataggine possiamo rimproverare i pagani di aver fatto dei martiri quando nelle stesse circostanze ci siamo resi colpevoli della stessa crudeltà? Ammettiamo pure che i romani abbiano fatto morire un gran numero di cristiani solo a motivo della loro religione. In questo caso i romani sono assolutamente da condannare. Ma vorremmo commettere noi la stessa ingiustizia? E quando rimproveriamo loro di aver perseguitato vorremmo a nostra volta diventare persecutori? Se si trovasse ora qualcuno abbastanza privo di buona fede o abbastanza fanatico per obiettarmi perché vi soffermate sui nostri errori e sui nostri sbagli? Perché distruggete i nostri falsi miracoli e le nostre false leggende? Essi sono l'alimento della devozione di molte persone. Vi sono errori necessari. Non strappate dal corpo un'ulcera inveterata che porterebbe con sé la distruzione del corpo. Ecco che cosa gli risponderei. Tutti questi falsi miracoli con i quali scuotete la fede che si deve ai veri tutte queste leggende assurde che aggiungete alle verità del Vangelo spengono la religione nei cuori. Troppe persone che vogliono istruirsi e che non hanno il tempo per istruirsi abbastanza dicono i maestri della mia religione mi hanno ingannato non vi è dunque religione è meglio gettarsi nelle braccia della natura che in quelle dell'errore. Preferisco dipendere dalla legge naturale che dalle invenzioni degli uomini. altri hanno la disgrazia di spingersi ancora più lontano vedono che l'impostura ha messo loro un freno e non vogliono più neanche il freno della verità si volgono verso l'ateismo si diventa depravati perché altri sono stati impostori e crudeli. Ecco certamente quali sono le conseguenze di tutte le frodi pie e di tutte le superstizioni. Gli uomini di solito non ragionano che a metà è un pessimo argomento il dire Varagine l'autore della leggenda aurea e il gesuita Ribade Neira compilatore del Fiore dei Santi non hanno detto che sciocchezze dunque non vi è Dio i cattolici hanno sgozzato un certo numero di ugonotti e gli ugonotti a loro volta hanno assassinato un certo numero di cattolici dunque non vi è Dio ci si è serviti della confessione della comunione di tutti i sacramenti per commettere i crimini più orribili dunque non vi è Dio io concluderò all'opposto dunque vi è un Dio che dopo questa vita passeggera nella quale lo abbiamo tanto misconosciuto e abbiamo commesso tanti crimini in suo nome denierà di consolarci di tante orribili disgrazie perché se si considerano le guerre di religione i 40 scismi papari che sono stati quasi tutti sanguinosi le imposture che sono state quasi tutte funeste gli odi inconciliabili accesi dalle differenze di opinione se si vedono tutti i mali prodotti dalla falsa devozione gli uomini hanno già avuto da tempo il loro inferno in questa vita Abuso dell'intolleranza ma come sarà permesso ogni cittadino di non credere che ha la propria ragione e di pensare ciò che questa ragione illuminata o ingannata gli detterà certamente a condizione che non turbi l'ordine perché credere o non credere non dipende dall'uomo ma dipende da lui rispettare gli usi della sua patria e se voi diceste che è un crimine non credere nella religione dominante voi stessi accusereste anche i primi cristiani i vostri padri e giustifichereste coloro che accusate di averli mandati al supplizio voi rispondete che la differenza è grande che tutte le religioni sono opere degli uomini e che la sola chiesa cattolica apostolica e romana è opera di Dio ma in buona fede poiché la nostra religione è divina essa deve regnare con l'odio i furori gli esili la confisca dei beni le carceri le torture i delitti e con i ringraziamenti resi a Dio per questi delitti più la religione cristiana è divina meno spetta all'uomo di imporla se Dio l'ha fatta Dio la sosterrà senza di voi sapete che l'intolleranza non produce che ipocriti o ribelli che funesta alternativa infine vorreste sostenere con l'aiuto di carnefici la religione di un Dio che i carnefici hanno fatto morire e che non ha predicato altro che la dolcezza e la pazienza considerate vi prego le orribili conseguenze del diritto dell'intolleranza se fosse permesso di spogliare dei suoi beni gettare in carcere uccidere un cittadino che sotto un certo grado di latitudine non professasse la religione ammessa sotto quel grado quale eccezione esimerebbe i capi dello Stato dalle stesse pene la religione narca e i mendicanti perciò più di 50 dottori o frati hanno affermato questo mostruoso errore che era permesso a destituire e uccidere i sovrani che non pensassero come la chiesa dominante e i parlamenti del regno non hanno smesso di respingere queste decisioni abominevoli di abominevoli teologi nota dell'autore il gesuita Busenbaum commentato dal gesuita Lacroix afferma che è permesso uccidere un principe scomunicato dal papa in qualsiasi paese si trovi questo principe perché l'universo appartiene al papa e colui che accetta questo incarico fa un'opera caritatevole è questa affermazione inventata nei manicomi dell'inferno che ha più di tutte sollevato l'intera Francia contro i gesuiti si è rimproverato loro più che mai questo dogma così spesso da loro insegnato e così spesso sconfessato essi hanno creduto di giustificarsi mostrando affermazioni simili in San Tommaso in molti domenicani vedete se potete la lettera di un uomo di mondo a un teologo su San Tommaso è un opuscolo gesuita del 1762 in effetti San Tommaso d'Aquino dottore angelico interprete della volontà divina sono i suoi titoli sostiene che un principe che ripudia la religione cristiana perde il suo diritto alla corona e che non bisogna più obbedirgli che la chiesa può punirlo con la morte libro secondo parte 2 questione 12 che si è tollerato l'imperatore Giuliano perché non si era più forti libro secondo parte 2 questione 12 che si devono uccidere di diritto tutti gli eretici libro secondo parte 2 questione 11 e 12 che coloro che liberano un popolo da un principe che governa tirannicamente sono degni di molte lodi eccetera eccetera si rispetta molto questo angelo della scuola ma se ai tempi di Jacques Clément suo confratello del fogliante Ravaillac fosse venuto a sostenere in Francia affermazioni simili come sarebbe stato trattato l'angelo della scuola bisogna riconoscere che Jean Gerson cancelliere dell'università si spinse ancora più lontano di San Tommaso e il francescano Jean Petit infinitamente più lontano di Gerson molti francescani sostenero le orribili tesi di Jean Petit bisogna riconoscere che questa dottrina diabolica del regicidio deriva unicamente dalla folla idea che hanno avuto a lungo quasi tutti i frati che il papa è un dio in terra che può disporre a suo piacere del trono e della vita dei re noi siamo stati in ciò molto al di sotto di quei tartari che credono il grande lama immortale egli distribuisce loro i suoi escrementi essi fanno seccare queste reliquie le conservano in una teca e le baciano devotamente per quanto mi riguarda confesso che preferirei per il bene della pace mettermi al collo reliquia di questo tipo che credere che il papa abbia il minimo diritto sulle cose temporali dei re o anche sulle mie comunque possa avvenire fine della nota dell'autore il sangue di enrico il grande era ancora fumante quando il parlamento di parigi approvò una sentenza che stabiliva l'indipendenza della corona come legge fondamentale il cardinale duperon che doveva la porpora enrico il grande si levò negli stati generali del 1614 contro la sentenza del parlamento e la fece annullare tutti i giornali del tempo riportano i termini di cui duperon si servì delle sue arringhe se un principe si facesse ariano disse si sarebbe ben costretti a deporlo niente affatto signor cardinale accettiamo pure la vostra ipotesi chimerica che uno dei nostri re avendo letto la storia dei concili e dei padri della chiesa colpito d'altro canto da queste parole il padre mio è più grande di me prendendole troppo alla lettera ed esitando tra il concilio di Nicea e quello di Costantinopoli si dichiarasse per Eusebio di Nicomedia non per questo non obbedirei più al mio re né mi crederei più legato dal giuramento che gli ho fatto e se voi osaste sollevarvi contro di lui e io fossi uno dei vostri giudici vi dichiarerei reo di lesa maestà Diuperon spinse più oltre la discussione e io l'abbrevio non è qui il luogo di approfondire queste rivoltanti chimere mi limiterò a dire con tutti i cittadini che si doveva obbedienza a Enrico IV non perché consacrato a Chartres ma perché il diritto incontestabile della nascita dava la corona a questo principe che la meritava con il suo coraggio e la sua bontà sia dunque lecito dire che ogni cittadino deve ereditare per lo stesso diritto i beni di suo padre e che non si vede perché debba essere privato e trascinato alla forca perché segue l'opinione di Ratramno contro Pascasio Radberto e di Berengario contro Scoto si sa che non sempre tutti i nostri dogmi sono stati spiegati chiaramente e universalmente accettati dalla nostra chiesa non avendoci Gesù Cristo detto come procedeva lo Spirito Santo la chiesa latina credette a lungo con la greca che non procedesse che dal padre infine aggiunse al credo che procedeva anche dal figlio mi chiedo se all'indomani di questa decisione un cittadino che si fosse attenuto al credo del giorno prima sarebbe stato degno di morte e oggi la crudeltà e l'ingiustizia sarebbero minori se si punisse colui che pensava come si pensava una volta si era colpevoli al tempo di Onorio I di credere che Gesù non avesse due volontà non è molto che si è stabilita l'immacolata concezione i Domenicani non vi credono ancora quando i Domenicani cominceranno a meritare delle punizioni in questo mondo e nell'altro se dobbiamo imparare da qualcuno come comportarci nelle nostre dispute interminabili è certamente dagli apostoli e dagli evangelisti vi era di che provare un violento scisma tra San Paolo e San Pietro Paolo dice espressamente nell'Epistola ai Galati di avere resistito a Pietro poiché Pietro era riprensibile poiché faceva ricorso alla dissimulazione tanto quanto Barnaba poiché entrambi mangiavano con i gentili prima dell'arrivo di Giacomo e in seguito si ritirarono segretamente e si separarono dai gentili per paura di offendere i circoncisi Vidi aggiunge che non procedevano diritto secondo il Vangelo dissi a Cefa Pietro se voi ebreo vivete con i gentili e non come gli ebrei perché obbligate i gentili a giudaizzare? ecco un argomento di violenta disputa si trattava di sapere se i nuovi cristiani avrebbero giudaizzato o no San Paolo in quel periodo andò addirittura a sacrificare nel tempio di Gerusalemme si sa che i primi 15 vescovi di Gerusalemme furono degli ebrei circoncisi che osservavano il sabato e si astenevano dalle carni proibite un vescovo spagnolo o portoghese che si facesse circoncidere e che osservasse il sabato sarebbe bruciato in un auto da fe eppure la pace non fu turbata per questo tema fondamentale né tra gli apostoli né tra i primi cristiani se gli evangelisti fossero stati simili agli scrittori moderni avrebbero avuto un campo ben vasto per combattere gli uni contro gli altri San Matteo conta 28 generazioni da Davide fino a Gesù San Luca ne conta 41 e queste generazioni sono assolutamente differenti eppure non si vede sorgere nessun dissenso tra i discepoli per tali apparenti discrepanze molto ben conciliate da molti padri della chiesa la carità non fu ferita la pace fu conservata quale più grande lezione di tollerarci nelle nostre dispute e di umiliarci in tutto ciò che non comprendiamo San Paolo nella sua epistola ad alcuni ebrei di Roma convertiti al cristianesimo impiega tutta la fine del terzo capitolo per dire che la sola fede dà la gloria e che le opere non giustifichano nessuno San Giacomo al contrario nella sua epistola le dodici tribù disperse per tutta la terra al capitolo secondo non cessa di dire che non si può essere salvati senza le opere ecco un problema che ha separato tra di noi due grandi confessioni e che non ha diviso gli apostoli se la persecuzione di coloro con i quali disputiamo fosse un'azione santa bisogna riconoscere che colui che avesse fatto uccidere più eretici sarebbe il più gran santo del paradiso che figura vi farebbe un uomo che si fosse accontentato di spogliare i suoi fratelli e di gettarli in segrete di fronte a un fanatico che ne avesse massacrati centinaia la notte di San Bartolomeo eccone la prova il successore di San Pietro e il suo concistoro non possono errare essi approvarono celebrarono consacrarono l'azione della notte di San Bartolomeo dunque questa azione era santissima dunque tra due assassini ugualmente devoti quello che avesse sventrato ventiquattro donne ugonotte incinte dovrebbe essere innalzato una gloria doppia di colui che non ne avesse sventrate che dodici per la medesima ragione i fanatici delle Seven dovevano credere che sarebbero stati innalzati alla gloria in proporzione al numero dei preti dei religiosi e delle donne cattoliche da loro sgozzati sono titoli ben strani per la gloria eterna se lintu